gli apostoli, i discepoli di Gesù a credere nella risurrezione, ma non più di tanto, perché è la nostra fatica del credere, è la nostra lentezza nel credere, nella risurrezione. Li sentiamo vicini a noi. Il Vangelo oggi fa una piccola sintesi degli incontri del Cristo risorto con i primi testimoni, con i primi discepoli. E vediamo che fanno fatica, tanta fatica. Non credono a Maria Maddalena, non credono ai discepoli di Emmaus, poi Tommaso